Che a Sclepio le risparmi la sofferenza. Ce la farà? Non senza l'aiuto degli dèi. Ultimamente molti ateniesi sono giunti in argolide, ma in pochi hanno fatto ritorno. Questa povera ragazza ha la stessa malattia. Posso aiutare in qualche modo? Mi hanno parlato dell'ombra dell'aquila. Vuole solo dracma in cambio di sangue, dicevano. Stiamo sprecando tempo, sacerdote. Parleremo di ciò che voglio quando questa ragazza malata sarà stata salvata. La sua malattia non sembra avere cure e sta peggiorando. I nostri sacrifici non sono riusciti ad attirare l'attenzione degli dèi. Abbiamo sacrificato maiali, cabri, tutto inutile. Serve un animale il cui sangue soddisfia Sclepio. Che animale hai in mente? Pare che un toro dal manto bianco come la neve si aggiri intorno al santuario. Vai a ovest, verso la costa. Conducilo qui vivo e offriremo agli dèi un sacrificio che non potranno ignorare. Mi fa piacere che tu voglia aiutare, ma so perché sei qui veramente. Criside ha fatto giurare ai sacerdoti di non rivelare nulla all'ombra dell'aquila. Altrimenti ci rimetteremo la vita. Ma io servo gli dèi e gli ammalati. La mia lealtà va a loro. Questa terra è vasta. Puoi essere più preciso su dove trovare il toro. Ho sentito che pascolava sul monte Corife, vicino alle rovine di Asini. Se hai intenzione di tagliare la gola al toro, perché ti serve vivo? Non si tratta solo di tagliargli la gola. Prima gli versiamo dell'acqua sulla testa. Se annuisce, possiamo procedere. Dei, mortali e animali devono tutti acconsentire al sacrificio o esso sarà impuro. Per salvare così tante persone avremo bisogno del sangue, delle ossa e del grasso dell'animale. Parlami di crisi, De. Sta terrorizzando tutti quanti. Le insegniamo tutto ciò che sapevamo sulla guarigione e sugli dèi. Ma poi trova altri insegnanti, persone mascherate. La cambiarono, indurirono il suo cuore, diventarono i suoi dèi. Troverò il toro. Pensa bene a quello che fa. e farò a fence. Il toro bianco sarà troppo tardi 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 Il toro bianco Il toro Il toro Il toro Il toro Il toro bianco sarà troppo tardi Il toro bianco Il toro Il toro bianco Il toro bianco Il toro bianco sarà troppo tardi Il toro bianco 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 Offri a loro il sacrificio Tu hai causato questo Scegli chi riceverà la grazia degli dèi So cosa significa essere piccoli e abbandonati Prega per la bambina Te ne pentirai Non era facile, Mistios Ma hai fatto la tua scelta Ora è tutto nelle mani degli dèi Ho fatto la mia parte, sacerdote La donna spartana che cerchi L'hai incontrata? La sua visita al santuario è leggendaria Purtroppo avvenne prima che io fossi qui Il sacerdote anziano Midone potrebbe aiutarti Parlava spesso di lei Prima che si tagliasse la lingua da solo Si è tagliato la lingua? Quando non cura gli ammalati si trova alla locanda Passa molto tempo a farsi accudire dai servitori Grazie Non dimenticherò il tuo aiuto E queste persone non dimenticheranno il tuo Non dimenticherò il tuo Questa zona è ben difesa Questa zona è finita 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 Questa è finita Questa zona è finita Questa zona è finita Questa è finita Questa zona 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 di Questa zona è finita Questa è finita Questa zona è finita Questa zona è finita Questa è finita Questa è finita Questa è finita Questa zona è finita Questa 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 è finita